Non arriva, dobbiamo già essere qui. Ah, la bellezza del calcio. Pensi di aver capito tutto e invece sbambo. Ti sorprende. Vogliamo commentare sto ritardo? No, Pier, dobbiamo commentare una cosa. Il gioco più bello del mondo. Il football. E c'è il gol, il gol che riapre il match. Non capisco davvero cosa ci facesse lì, Pier. E probabilmente se lo starà chiedendo anche il tecnico, eh. Lo facciamo probabilmente. Esatto. Vai. Ragazzi, il calcio è gioia, è inclusione. Come dico sempre, il calcio è di tutti. Sia di coloro che lo vivono e lo praticano nel potrero, nel barrio. Sia coloro che sono arrivati a giocarlo alla scala del calcio. Voglio che la mia voce sia un grido d'amore verso il gioco più bello del mondo. Ciao, Pier. Allora ci sentiamo, eh. Mi sa che ci sentiranno tutti, tra l'altro. Ciao. 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 Grazie per la visione!